Le utility sono fortemente impegnate in tutti i principali settori in cui questo gap c'è, dal settore idrico all'ambiente, all'energia e ai progetti di sviluppo del teleriscaldamento. Quindi la capacità di investimento delle utility, soprattutto se pranno mettere a fattore comune, gli investimenti potrà essere un buon booster per l'Italia. In questo senso il risico che tanto si è annunciato nel settore può essere un volano? Credo che mettere in rete le aziende sia una condizione importante perché la dimensione è importantissima per garantire soglie di investimento significative. Quindi tanto più ci saranno forme di integrazione tra aziende e forme di collaborazione tra le aziende, tanto più le aziende saranno capaci di investire. E in questo senso secondo lei sono tempi maturi? Direi che bisogna fare queste cose prima che sia troppo tardi. Quindi direi che oggi è il momento giusto, fra qualche anno o solo fra un paio d'anni potrebbe essere non più così utile fare queste operazioni. Lei è anche capo di A2A. Quali sono le priorità vostre in questo momento dal punto di vista infrastrutturale? Noi stiamo ragionando sulla conversione di alcuni impianti produttivi, sulla razionalizzazione della rete di offerta e sullo sviluppo di investimenti sull'area del terrescaldamento in campo ambientale. Quindi noi stiamo facendo il piano industriale che traguarderà la fine del 2019, quindi consegnerà A2A al primo gennaio 2020. In questo piano industriale ci sarà un significativo piano di investimenti dal quale noi ci aspettiamo un ulteriore sviluppo della società. C'è un problema di finanziamenti o no in questo momento? Direi che non parlerei di un problema di finanziamenti, c'è un problema di bancabilità degli investimenti e credo che con progetti industriali interessanti che garantiscono un buon ritorno sull'investimento io non credo ci siano difficoltà a riperire fonti finanziarie da diversi ambiti. In questo senso un commento sullo sblocca Italia, sulla sua efficacia e in parallelo a livello europeo sul piano Juncker? Io direi che mi aspetto dall'evoluzione normativa più che aiuti finanziari, soprattutto chiarezza e semplificazione del quadro regolatorio e stabilità del quadro regolatorio normativo. Credo che per fare investimenti ci vogliano procedure veloci, autorizzazioni certe in tempi rapidi. Se l'evoluzione del quadro normativo nazionale e internazionale aiuterà a fare questo, le imprese sono pronte poi per fare gli investimenti. Credo che sia un piano interessante, al quale guardiamo tutti con grandi interessi e aspettative. In generale l'integrazione a livello europeo, siccome è un driver da perseguire, quindi tanto più si lavorerà in modo integrato e armonizzato tra i diversi paesi dell'Europa, tante più opportunità ci saranno per i cittadini italiani e quindi europei. Grazie.